E si parla di Obelisk questa volta, altra lista in 3x, in definitiva, con le carte sempre dello structure Questa versione invece mi piace meno di Slifer, già l'ho detto nel video, inerente alla divinità egizia di Atem Che professionalità! E niente, vediamo la profile di Obelisk, il mazzo gioca principalmente Going Second, quindi Otticapiamo pesante, andiamo a vedere la lista, giochiamo il Repair di Obelisk L'Obelisk del Tiranno, lui non può essere targettato, tributando due mostri, spaccato l'ultimo sia l'avversario Se questo effetto però viene attivato, non possiamo attaccarci Quindi, vabbè, il fatto che comunque si riesce a calare un 4000 è targettabile, è già tantissima roba Quindi diciamo che il secondo effetto lo utilizzeremo mai 3x, Angelo01, molto carino Angelo01 mi pare, riveliamo e specialiamo In più possiamo fare una evocazione tramite il tributo In più, rivelando un mostro di livello setto superiore, possiamo specialarcelo dalla mano Carta molto carina Il 2x della strega condannata Non è una carta Going Second, ma è comunque una carta molto buona Al turno, poi, dell'avversario Possiamo tributarla per giocare un mostro di tipo fatta a livello 4 Tranne lei In più, quando la evochiamo, possiamo aggiungerci dal deck la mano Una magia rapida, proibito Quindi come calice, abito e via discorrendo 3x, discepolo, dirà Quando viene evocato, caliamo altre due copie Però non possiamo né specialare, né evocare il mostro di tramite il tributo Eccetto Obelisk, Sliver e Ra Forte perché cali e entrano due E' un po' me perché comunque ti limita molto Però comunque una carta in questo mazzo, devi andare Gizmack Questo Gizmack è molto carino perché si speciala se tu cali un mostro dal deck Molto facile Quindi abbiamo strega condannata Abbiamo anche i castorini che dopo vedremo Molto carino, quindi speciala In più, un livello 7 e possiamo utilizzarlo per Angelo A1 Non l'avevo messo nella lista beta perché un po' non mi convinceva In realtà volevo metterlo Però ho detto non so Ma in realtà si, mettiamolo perché è una bella carta Triplo Mandragora Branco Molvagio Lui se il Loppo controlla più mostri di noi possiamo specialarlo Anche due volte perché finché il Loppo ha più mostri possiamo specialarlo Quindi è una carta molto molto carina Cyber Drago Ovviamente 3x che partiamo secondi E l'agile castoro perché se lo normaliamo giochiamo un altro mostro agile dal deck o cimitero Quindi è buono perché ci fa combo Gizmack e in più ci fa calare un altro mostro Triplo incrocio di anime Fortissimo Doppio Pugno del fato E lei è una carta molto molto carina Il problema rimane che non abbiamo Obelisk in campo Nega effetto mostro L'effetto di questa carta non può essere annullata Spacca tutte le carte Cioè Tutte le magie trappole Scusate Topic Che vi rileggo l'effetto Tutte le magie trappole controllate dalla Loppo Questi video sono così professionali che se mia madre entrerebbe e mi porterebbe un caffè Io non taglierei nulla Poi Mono evoluzione divina Anche questa carta carina perché aumenta l'attacco e la difesa di mille E in più quando attacchiamo l'avversario manda un mostro che controlla al cimitero E più di una no Perché la carta è discreta Non è neanche una volta per turno E mi pare Non può essere neanche annullata Se si che lasse Obelisk in due secondi Così Questa forse anche in due andrebbe bene Spolverino E giochiamo poi Tempesta avanzata Inter per Perché comunque tributiamo così all'oppo Ci serve veramente tanto Controllo della mente Perché comunque Pagando 800 prendiamo il controllo di un mostro dell'avversario Che può essere normalato posizionato Quindi ci sono delle forti limitazioni Ma comunque è una buona carta Tripla Doppia evocazione perché il deck ne ha un assoluto bisogno Perché già riuscire a evocare carte Più magari ti fai la normal Magari ti fai la normal e hai tre mostri in campo Ma non puoi giocare più Obelisk Ecco lì che doppia evocazione Ti serve assolutamente come il pane Concludiamo con il 2x Di calice proibito Che lei è un neghino Tanto ce la possiamo prendere Le altre carte proibite non è che mi piacciono molto Perché comunque Non hanno effetti così importanti Alla fin fine Lei mi piace molto di più perché comunque riesce a negare un mostro Abbiamo anche il pugno del foto Ma il pugno del foto comunque ripeto è difficile da giocare Quindi calice proibito è carino Tanto ce lo possiamo aggiungere tranquillamente E ci sta Una volta ci ho bittato Si ho aumentato l'attacco del mio per bittarci Lasciamo stare E infine Per concludere La decklist Giochiamo il Reborn Non c'è ovviamente nessuna carta trappola Perché il mazzo parte per secondo Il Reborn è comunque una carta che Ci sta Ci sta Per rebornare i mostri È sempre È sempre una cosa ben accetta E ci serve sempre comunque Quindi Ci sta Ci sta Questa è La lista di Obelisk Per Obelisk Portarla con dei supporti Forse mi ci vorrà un pochino di più Perché ancora non so bene come inquadrarlo Quindi magari Per Obelisk Aspetterete un pochino Ma comunque Arriverà Credo di aver messo la luce in maniera Abbastanza decente Noi ci vediamo al prossimo video Fatemi sapere cosa ne pensate Sono andato in extra bit E ci vediamo in un prossimo video Un saluto a tutti i giocatori Grazie a tutti i giocatori Grazie a tutti i giocatori